Partiti? Ecco, siamo partiti. Volevo solo sapere come era andato il tutto. Dieci elode. Bravissimo. Andato da Frucchepierre. Meraviglioso. Professionale. Ha dei collaboratori fantastici. Validissimi. Non puoi dire che preferisco Laura. Quello che vuoi. Laura, io ti adoro. No, a me piace lui. No, no, no. Andiamo bene qui. Sta cambiando qualcosa in questo mondo. Bravissimo, veramente. Andate da Frucchepierre perché vi troverete veramente bene. Merito, sì. Bene, grazie. Qualità e professionalità. Perfette. Ciao, grazie. Ciao.